Mafia, colpo al clan di Brancaccio, estorsioni, droga, case di riposo, 25 arresti. San Mauro Castelverde, scoperto una piantaggione di marijuana in un casolare, tre persone in manette. Pommetro, 36 milioni a Palermo, serviranno per mobilità sostenibile, innovazione e inclusione sociale. Buonasera, prima edizione di Medianews, oggi è martedì 2 luglio. Come avete sentito nei titoli, mafia, colpo al clan di Brancaccio, estorsioni, droga, case di riposo, 25 arresti, operazione della Polizia di Palermo. Dall'alba di oggi, con l'operazione Maredolce 2, la Polizia di Stato sta eseguendo, su delega della direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, che ha coordinato le indagini, un'ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di oltre 20 soggetti, che dovranno rispondere a diverso titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno fatto luce su una delle articolazioni territoriali chiave nell'economia di Cosa Nostra Palermitana, il mandamento mafioso di Brancaccio, in particolare la famiglia di Corso dei Mille. Hanno radiografato l'economia diversificata di un sodalizio criminale, già profondamente colpito nel luglio 2017 dall'operazione Maredolce, capace di intessere rapporti stabili con autorevoli esponenti di altri mandamenti di Cosa Nostra Palermitana e di incidere e condizionare profondamente il tessuto economico, tanto legale quanto illecito, di quella porzione di territorio. La droga, il business delle slot machine, il controllo di alcune case di riposo, le immancabili estorsioni sono soltanto alcuni degli interessi perseguiti dagli affiliati e documentati dalle indagini dei poliziotti. Il sodalizio criminale esercitava un capillare e rigoroso controllo del territorio anche nei confronti della microcriminalità predatoria, assoggettata all'autorità mafiosa. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati all'organizzazione beni per un valore approssimativo di un milione di euro. E parliamo ancora dell'operazione Mare Dolce, ascoltiamo l'intervista a Rodolfo Ruperti, capo della squadra mobile di Palermo. Complessivamente abbiamo eseguito 26 misure cautelari su un'indagine coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Palermo. Abbiamo operato in un mandamento tristemente noto come quello di Brancaccio e riteniamo oggi di aver decapitato una delle famiglie più importanti all'interno di quel mandamento che è quella di Corso dei 1000. Abbiamo arrestato i reggenti e abbiamo con le nostre attività investigative svelato una serie di business che facevano capo a questa organizzazione mafiosa che spaziavano dal traffico di droga, alle estorsioni, al traffico di tabacchi e alle intestazioni fittizie fino al riciclaggio in alcuni casi. Le attività sono state coordinate passo passo dalla procura di Palermo e fra i business particolari che abbiamo riscontrato anche quello di predisposizioni di case di cura per anziani che cercavano di estendere in tutto il territorio locando appartamenti da utilizzare a tale fine. Abbiamo arrestato in particolare quelli che riteniamo i reggenti del mandamento che sono Luigi Scimò, detto Fabio e anche Salvatore Testa già in passato condannati per fatti di mafia. Le indagini da quanto tempo vanno avanti? Le indagini andavano avanti da un po' di tempo ma sono stati raccolti sin da subito notevoli elementi. È stata qualche rivelazione da parte di qualche collaboratore o come si sono sviluppate? Guardi, le rivelazioni dei collaboratori per come è stato anche poi scritto dal GIP nella misura cautelare sono state più che apripista, sono state veramente più a riscontro di tutto quello che è stato il lavoro investigativo svolto. Ancora cronaca, San Mauro Castelverde scoperta una piantagione di marijuana in un casolare, tre persone in manette. Sono accusate di aver allestito una coltivazione indoor con tanto di aspiratori, ventilatori e lampade alogene alimentate abusivamente, sequestrate anche un silenziatore ed una carabina. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato con l'accusa di coltivazione e detenzione i fini di spaccio di sostanza stupefacente, concorso in furto aggravato di energia elettrica, detenzioni illegale di munizioni, di tritolo e di silenziatore per armi da fuoco, Tommaso Armillieri di San Mauro Castelverde classe 1953, Leonardo e Vito Casarrubbia, padre e figlio palermitani rispettivamente classe 53 e 89. Venerdì scorso i militari dell'arma, durante un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, transitando a San Mauro Castelverde in contrada Tiberio, hanno notato un insolito via vaida, una strada di accesso ad un terreno ed hanno verificato che tre uomini entravano all'interno di un'abitazione isolata. I militari hanno scoperto che i tre, all'interno di un magazzino di pertinenza del casolare di Tommaso Armilleri, avevano allestito una vera e propria piantagione in serra e indoor di sostanza stupefacente del tipo marijuana, munita di ventilatori aspiratori, lampade alogene, il tutto predisposto con un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della società e distribuzione intervenuti sul posto. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina, 1300 piante di sostanze stupefacenti dell'altezza media di 70 centimetri, 10 aspiratori, 20 ventilatori, 18 lampade alogene. La droga è stata sottoposta a campionamento per la successiva distruzione a cura della sezione investigazione scientifica e del nucleo investigativo di Palermo. Inoltre, in un magazzino adiacente all'abitazione, sono stati trovati occultati dentro un armario metallico, 150 grammi di tritolo, un silenziatore per arma da fuoco e 18 munizioni calibro 12, in più anche una carabina. Sul posto, quindi, è stato richiesto l'intervento del personale degli artificieri antisabotaggio nucleo investigativo di Palermo e del nucleo cinofili carabinieri, che ha verificato l'assenza di ulteriore materiale esplosivo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale Antonino Burrafato di Termini Merese. Cambiamo argomento. Percettori di reddito di cittadinanza in sitine, in piazza del Parlamento a Palermo, per chiedere alle istituzioni garanzie sul loro percorso formativo e lavorativo. Dignità personale e dignità sociale, insomma. Ma è un po' quello che chiedete, al di là della misura della quale state beneficiando, ma chiedete maggiori garanzie? Sì, assolutamente. Noi chiediamo maggiori garanzie, perché comunque abbiamo notato, e questa è una questione che va avanti da anni, non solo adesso, che c'è un totale menefreghismo da parte delle istituzioni. Quindi quello a cui puntiamo noi è anche riuscire ad avere un tavolo tecnico con la regione, appunto, perché è arrivato il momento che loro si prendono le loro responsabilità, perché ormai c'è troppa gente che vive di nulla sostanzialmente. Voi ad oggi siete percettori di questa misura del reddito di cittadinanza, ma quello che chiedete è chiarezza rispetto alle prospettive? Sì, noi chiediamo principalmente di avere, diciamo, delle interlocuzioni per capire quale deve essere la nostra posizione in questo momento sul reddito di cittadinanza, che loro parlano di otto ore, sedici ore, ma attualmente non c'è nessuna normativa dal governo nazionale né da parte del comune né da parte della regione e di tutti gli altri enti preposti. Noi oggi abbiamo fatto questo sciopero, più che altro questa manifestazione, questa forma di protesta, ecco, per far sentire in minima parte, questo è l'inizio, è la continuazione di quello che abbiamo fatto nei mesi, per far capire alle istituzioni che è arrivato il momento che si prendono le loro responsabilità. Il tema è, dopo questi 18 mesi cosa farà questa gente? Allora la nostra proposta, Mancia Comuparri, è una campagna di sensibilizzazione legata al prodotto siciliano. Affidiamo a questi giovani le terre, affidiamo a questi giovani gli immobili perché si possa fare turismo e agricoltura. Se è vero che i giapponesi vogliono sapere qual è il segreto del nostro olio extravergine di oliva, dobbiamo spiegare a questi ragazzi come fare per poi esportare le nostre eccellezze nel mondo. PONMETRO, 36 milioni a Palermo serviranno per mobilità sostenibile, innovazione e inclusione sociale. Poco più di 36 milioni di euro da destinare ad interventi di innovazione digitale, mobilità sostenibile, efficienza energetica e inclusione sociale. Sono i fondi previsti per la città di Palermo dal piano operativo complementare del PONMETRO, con il quale il CIP ha stanziato complessivamente 220 milioni per alcune città metropolitane del Meridione e per i quali l'Aggiunta ha approvato su proposta dall'assessore Roberto D'Agostino la relativa programmazione. Una parte dei progetti previsti saranno gestiti direttamente all'amministrazione comunale, circa 25 milioni di euro, ed una parte saranno coordinati direttamente dall'autorità di gestione del PONMETRO, per circa 10 milioni, ma avranno diretta applicazione in città. Rientrano nella categoria degli interventi legati alla digitalizzazione quelli previsti per la realizzazione di una control room e di una piattaforma digitale su ambiente e territorio. Serviranno alla creazione di un sistema di controllo e analisi dei dati telematici forniti in tempo reale da una vasta rete di sensori relativi ai servizi e qualità degli stessi. Sono legati invece alla mobilità dolce e sostenibile e il potenziamento del bike sharing per circa un milione di euro, la nuova pista ciclabile lungo la costa sud da via Archirafia alla Bandite e soprattutto il rinnovo del parco autobus. Ad interessare la zona sud della città, dallo Sperona al confine con Villa Abate, è anche il progetto del valore di circa 9,5 milioni di euro di efficientamento e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. A chiudere gli interventi di competenza diretta del Comune, quello che riguarda la realizzazione di interventi e strutture per donne vittime di violenza, con la realizzazione di una struttura di ospitalità di emergenza, di una casa di accoglienza di indirizzo segreto ed il sostegno a due centri antiviolenza. Circa 10 milioni complessivi andranno invece a finanziare tre progetti da realizzare a Palermo che saranno coordinati dall'autorità di gestione. Di questi il più rilevante è quello che prevede di realizzare alla favorita uno Smart Metro Park, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie legate alla riqualificazione e alla crescita sostenibile. Il progetto, con un costo di circa 6,5 milioni, prevede la riqualificazione di alcuni edifici ricadenti nel parco e la razionalizzazione della mobilità al suo interno, in funzione dell'aggregazione sociale ma soprattutto per la creazione di spazi condivisi dedicati alla ricerca scientifica e all'innovazione sociale. Altro significativo intervento coordinato dall'autorità sarà quello chiamato Mode Energy, realizzato in collaborazione con l'Enea per la realizzazione di interventi di efficientamento e razionalizzazione dei sistemi di illuminazione e consumo energetico degli edifici pubblici, in particolare le scuole. Corretto, consapevole ed intelligente utilizzo degli smartphone, soprattutto in riferimento alla popolazione fino a 12 anni, è l'obiettivo del progetto Stop Phone, realizzato dall'ASP di Palermo, che ha coinvolto in appena 4 mesi quasi 2.000 studenti e circa 400 docenti di 10 istituti scolastici del capoluogo. Corretto, consapevole ed intelligente utilizzo degli smartphone, soprattutto in riferimento alla popolazione fino ai 12 anni, è l'obiettivo del progetto Stop Phone, realizzato dall'ASP di Palermo, che ha coinvolto in appena 4 mesi quasi 2.000 studenti e circa 400 docenti di 10 istituti scolastici del capoluogo. Si tratta di un intervento pilota che intercetta nuovi bisogni di salute, puntando sulla prevenzione attraverso un approccio multidisciplinare, ha spiegato il direttore generale dell'ASP, Daniela Faraoni. Sono molti partner e gli attori istituzionali coinvolti nel progetto. Ci auguriamo che continuino a crescere e a favorire le necessarie sinergie, ad iniziare dagli istituti scolastici, che già per l'anno appena conclusosi, hanno dato un grandissimo contributo. Stiamo riscontrando attenzione di interesse per un problema sempre più sentito che la nostra azienda ha messo nel mirino, allargando il campo degli interventi al contesto di vita dei bambini ed interessando genitori, docenti ed operatori sanitari. Sono già 500 i questionari compilati che serviranno a rilevare i comportamenti a rischio, soprattutto per la fascia di età 0-12 anni. Il progetto si inserisce nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione, che prevede l'attuazione di interventi per un corretto uso dei telefoni cellulari, con particolare attenzione al target in età pediatrica nell'ambito del macro-obiettivo ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. Il progetto, ha sottolineato il referente scientifico dell'ASP, Roberto Gambino, sta coinvolgendo ragazzi ed insegnanti delle scuole medie, docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, genitori, pediatri e operatori della sanità. Gli interventi sono realizzati in collaborazione con l'Associazione Vivi Sano Onlus, l'ufficio scolastico regionale, e per gli aspetti legati al rilevamento dei comportamenti a rischio nella popolazione interessata, con la Scuola di Specializzazione del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza, Giuseppe D'Alessandro, dell'Università di Palermo. Ad oggi le azioni di sensibilizzazione e formazione hanno interessato 10 istituti scolastici del distretto sanitario 42 di Palermo e hanno coinvolto quasi 2.000 studenti e circa 400 docenti tra scuola dell'infanzia, elementare e media. Ringrazio gli operatori dell'Associazione Vivi Sano Onlus e tutta la rete interistituzionale che ha permesso in poco tempo di raggiungere questi risultati indispensabili per un corretto approccio nella prevenzione dei rischi fisici e psicologici dovuti ad un non corretto utilizzo di questa tecnologia. Managerialità e produttività, innovazione e comunicazione del brand Samantha Di Laura, fondatrice e titolare di Scirocco Ethical Sales Management di Menfi e di attrice del progetto Liove, il premio per l'imprenditorial Premium International Florence Seven Stars, eccellenza del Made in Italy. Abbiamo chiesto a Di Laura come si costruisce un successo. Si costruisce credendoci, non arrendendosi mai ma soprattutto puntando sempre alla qualità in tutti gli aspetti del progetto. Io dico sempre che bisogna puntare alla qualità a 360 gradi nella nostra vita e in tutto ciò che facciamo. Quindi noi abbiamo puntato prima di tutto alla qualità del prodotto dell'olio extravergine di oliva, alla qualità del packaging che rispecchiasse per l'appunto quanto c'era dentro ma soprattutto crediamo nella qualità in generale delle produzioni siciliane che devono avere il giusto valore aggiunto quando si presentano sul mercato. Lei ha fatto un percorso al contrario, dal nord e ritornata al sud. Tutti mi dicevano sempre, da sempre mi hanno detto che sarebbe stato impossibile. Io sono piemontese di origini siciliane e da sempre ho desiderato venire in Sicilia a ritrovare le mie radici, riscoprire le mie radici e questo all'inizio sentimentalmente, poi crescendo professionalmente ho proprio desiderato mettere a servizio della mia terra perché considero, nonostante l'accento, considero questa la mia terra le mie competenze professionali e Oliove in particolare è un progetto mio che ha come scopo principale non solo quello di essere un brand riconosciuto e di avere successo ma di servire da ispirazione per dare valore a tutto il comparto dell'olio extravergine di oliva siciliano che vale tantissimo ma secondo me dal punto di vista della commercializzazione e del branding, salvo rare eccezioni e salvo storie di successo che tutti quanti conosciamo, ma sono due o tre ancora molta strada a fare Sicuramente avrà trovato delle differenze fra il modo di lavorare al nord e quello al sud Sì, tant'è che spesso i miei amici o i miei collaboratori ogni tanto mi prendono in giro mi dicono avanti Savoia piuttosto che i miei genitori inizialmente in particolare mia madre che ha sempre lavorato su è stata una delle prime donne capostazioni d'Italia siciliana al nord quando io le ho comunicato che sarei venuta a vivere in Sicilia che mi sarei messa a lavorare in Sicilia lei mi ha chiesto se ero davvero convinta e inizialmente non comprendevo perché e poi me l'ha detto perché io effettivamente ho una formazione abbastanza nordica, tedesca devo dire che però le due parti, la creatività che c'è al sud perché insomma poi il caos genera creatività conciliato con la formazione nordica secondo me sono un connubio perfetto ora magari è facile dirlo perché sono io ma io sono felice di essermi formata al nord e di lavorare al sud Quindi tutto sommato è una storia che può essere anche d'ispirazione per persone che vivono al sud e vogliono investire al sud Assolutamente c'è un grande patrimonio si parla spesso della fuga dei cervelli che c'è dalla Sicilia o dalle regioni del sud ma se questi cervelli in fuga si vedono in prospettiva come cervelli che un domani si possono fare rientrare per mettersi al servizio delle aziende che ne hanno bisogno diventano una grandissima opportunità per questa terra quindi le aziende che sono al sud e che vogliono investire al sud lo possono fare io consiglio comunque sempre di andare fuori vedere cosa fanno fuori, come lo fanno fuori oppure di richiamare gente che da fuori insomma non sono l'unica emigrante al contrario che ha voglia di ritornare indietro Bottiglie di vetro, gomme di auto, lattine una grande quantità di plastica sono stati raccolti nell'operazione fondali puliti che si è svolta la scorso fine settimana nel porto turistico di San Nicola Larena l'associazione di volontariato Mario e Venti insieme ad associazioni Diving Club WWF con il patrocinio del comune di Trabbia ha ripulito i fondali e l'area Battiglia decine di sommozzatori si sono immersi anche nei fondali nella prodo San Nicolese i rifiuti sono stati poi smaltiti dalla società Ecologia e Ambiente di Termini Imerese devo dire tanto di cappello a questi ragazzi che oggi sono immersi in un'acqua non facile perché siamo in basso al porticciolo di San Nicola Larena dove c'è un metro e mezzo d'acqua è abbastanza melmoso quindi sollevando i primi teli già non si vedeva nulla quindi tanto merito a loro che hanno svolto questa attività oggi assolutamente quello che abbiamo fatto oggi al di là del fatto che abbiamo tirato fuori alcuni relitti è roba che niente ha a che vedere con il mare tipo sedie e altro materiale ci auguriamo che la gente capisca che il mare non è che perché sommergiamo un rifiuto questo non esiste più tra l'altro noi abbiamo pianificato la pulizia di ogni nostro ambiente ma quando si tratta di mare pare che sia terra di nessuno nessuno lo pulisce io mi auguro che questo modo di pensare sia ormai diffuso e che quindi anche il mare vada pulito questo è l'inizio di un'attenzione verso l'ecologia verso l'ambiente da parte dell'amministrazione questa bellissima iniziativa Plastic Free sarà punto di spunto per poter far diventare Trabbia a breve Paese Plastic Free cioè a Trabbia speriamo di predisporre tutti gli atti che possono fare in modo che nessuno possa utilizzare più plastica nel nostro territorio perché veramente inquina se lei pensa che oltre a questa manifestazione noi abbiamo una serie di volontari che durante la settimana puliscono tutto il territorio le garantisco che l'80% del rifiuto che recuperiamo è la plastica arte e scienza erice cultura e bellezza condivise con le quattro mostre del centro Majorana apertura straordinaria fino al 3 novembre degli istituti Wigner San Francesco e Black Hat San Domenico contenitore d'arte oltre che laboratori del pensiero scientifico l'inaugurazione con fisici e scienziati docenti della scuola di fisica subnucleare con l'inaugurazione della mostra dedicata allo scultore Umberto Mastroianni ha preso il via ad erice il progetto del centro Majorana diretto dal professore Antonino Zichichi per la straordinaria apertura al pubblico degli istituti Wigner San Francesco e Black Hat San Domenico quattro le mostre allestite nei due spazi che luogo di dialogo per scienziati e premi nobili internazionali dal 1963 diventano contenitore d'arte e di sapere condiviso con la moltitudine di viaggiatori, villeggianti e residenti del pittoresco borgo medievale in provincia di Trapani i due istituti saranno visitabili fino al 3 novembre tutti i giorni dalle 10 alle 19 all'istituto Black Hat San Domenico il primo passo è di natura didattico documentale si intitola Storia del centro Majorana e con il supporto di pannelli illustrativi foto d'archivio, pagine di giornali e cimeli ricostruisce mezzo secolo di attività della fondazione che di fatto ha determinato la rinascita di Erice sotto l'egita della cultura scientifica internazionale oltre a catapultare il piccolo borgo trapanese nell'Olimpo delle mete più affascinanti per viaggiatori alla ricerca di luoghi meno battuti dal turismo di massa le tre mostre d'arte sono un contributo affinché la cultura del nostro tempo non ignori le conquiste e la scienza la prima si intitola Fibonacci e il numero aureo la forma generatrice 30 opere classiche e contemporanee firmate da Piero Guccione Pizzi Cannella, Umberto Mastroianni, Carlo Gavazzeni ricordi, installazioni, site specifiche di Paola Losciuto si prestano a raccontare ai visitatori la proporzione aurea e il rapporto magico contenuto nel DNA delle forme della natura e utilizzato dagli artisti da giotti in poi come parametro di bellezza universale all'istituto Vignar San Francesco la mostra stelle, costellazioni e oroscopi in cui il professore Zichichi affronta in modo scientifico il problema dei segni zodiacali coinvolgendo con opere sul tema artisti contemporanei si conclude con il monumento di Erice un percorso artistico 1931-1993 dedicato alle sculture di Umberto Mastroianni a cura di Caterina Napoleone omaggio all'artista che nel 1993 in occasione della visita di Papa Paolo Giovanni II d'Erice per i 30 anni della fondazione realizzò un monumento celebrativo un basso rilievo in bronzo che celebra il dialogo tra scienza, arte e fede Palermo ha ospitato l'ultima tappa del Master Pizza Champion il talent show per pizzaioli professionisti che ha già fatto tappa in altre 7 città italiane che è tornato nel capoluogo siciliano dopo tanti anni Grandissima soddisfazione grande risposta di Palermo dei suoi cittadini sia per la tre giorni organizzata da Fabio e altri del gelato Pizza Village ma in questo evento dove erano un po' disperati dico la sincera verità radunare circa 70 pizze che sono uscite da tre competizioni fatte parallelamente un esperimento un po' da kamikaze che però è riuscito alla perfezione con qualche piccola sbavatura della quale faremo ottimo insegnamento per il prossimo anno Andando innanzitutto sono felice anche perché ho fatto diciamo tanta strada per essere quest'oggi qui è abbastanza pesante però sono contento di aver tenuto comunque un podio e di comunque di confrontarsi soprattutto con sempre dei pizzaioli in gamba e uno vede sempre cose nuove Allora sinceramente io non mi aspettavo questa vincita è stata una bella giornata ci siamo tutti confrontati e spero di migliorare arrivare anche al primo posto speriamo, speriamo bene ci vediamo alla prossima Stanco ma soddisfatto fuori da ogni aspettativa sono contento di aver raggiunto questo traguardo la cosa più bella è stata passare una giornata con tutti questi colleghi, questi amici spero che ce ne saranno tantissime Che pizza hai presentato? In questa gara ho presentato una pizza con una vellutata di zucchina genovesi porro accompagnata da una pancetta coppata di suino nero dei nebrodi con fili peperoncino lamelle di mandorle Lunedì, 1 luglio abbiamo chiuso in bellezza con il Master Pizza Champion il Pizza Senza Frontiere e il Mediterranea Pizza World tre eventi come dire sensazionali perché a Palermo da cinque anni non si faceva un evento del genere sul mondo della pizza il Master Pizza Champion è tornato dopo i cinque anni a Palermo l'abbiamo riportato a Palermo è stato veramente più di cento pizzaioli siciliani ma anche tutta Italia sono stati qui a contendersi il premio e devo dire siamo veramente felici contenti e soddisfatti per quello che abbiamo fatto per aver dato e donato alle famiglie palermitane e ai bambini palermitani questi tre giorni questi quattro giorni di allegria di spensieratezza e di del buon gelato e dell'ottima pizza ed è tutto grazie per essere stati con noi appuntamento alla seconda edizione arrivederci grazie a tutti